La crisi stimola la creatività. Questa affermazione è verissima in quanto le più grandi crisi al mondo hanno stimolato gli imprenditori a sviluppare una creatività veramente impressionante perché pensate che nella Nautica per esempio la prima crisi vera è stata nel 1960 quando c'è stato veramente una contrazione del mercato e pensate che nel 1960 poi Fiat per esempio uscì con il modello Conchita ed era la prima barca in Betoresina quindi aveva ovviamente sviluppato un processo produttivo nuovo per cui aveva fatto un grande passo avanti perché durante quella crisi hanno studiato e innovato alcuni processi e alcuni procedimenti per cui viva la creatività in quell'occasione. Ma pensate poi che nel 1962 Riva lanciò il famosissimo che ha fatto la storia, il grande Aquarama e ovviamente era proprio il simbolo della dolce vita, costava pensate soltanto 11 milioni di lire ed era considerato veramente un prodotto di nicchia e aveva come spot, aveva sole, mare e gioia di vivere quindi faceva ben capire la finalità di questo prodotto. Era una barca di 8 metri ma quella volta le imbarcazioni erano abbastanza più piccole di quelle di adesso e quindi diventò veramente un prodotto usato poi anche come tender per i grandi yacht e quindi insomma la creatività in quell'occasione anche del signor Riva fu veramente lungimirante e molto molto creativo forte. quindi a volte le crisi non sono... c'è sempre qualcosa di buono da prendere in ogni cosa negativa se sappiamo guardarla da diversi aspetti qualcosa di buono c'è sempre in fondo nel 2010-2011 quando ci fu un'altra grande crisi italiana personalmente in quegli anni sviluppai un processo produttivo nuovo che è un'infusione ovviamente a stampi chiusi e quindi anche quella fu una cosa che venne fuori praticamente da una grande crisi quindi si chiama l'app quindi una amminazione all'alta pressione proprio perché l'ingegno degli imprenditori vengono fuori nei momenti più difficili quindi viva la creatività e non dico viva la crisi perché qualche volta però è stata un'opportunità per molti di noi quindi abbiamo saputo innovare ma soprattutto i signori di Fiert e di Riva perché abbiamo fatto delle grandissime cose che poi ovviamente nel mondo sono diventati veramente prodotti da... anche invidiati, sono prodotti veramente incredibili ciao ragazzi, buona serata